Ciao a tutti, sono Bernardo Matteis, sono nella nazionale italiana di corso in montagna, corro per il gruppo sportivo esercito e basta. Siamo qui in raduno con la nazionale di corso in montagna Livigno, una settimana per allenarci un po' al fresco e soprattutto per l'altura. E niente, siamo ospitati all'hotel Primula che ci tratta molto bene. E qui siamo in quel gruppo, c'è anche qualche coglione, no scherzo, no ci stiamo allenando bene, tipo stamattina abbiamo fatto un lungo qui sul percorso della Stralivigno, tranquilli, io sono andato tranquillo, se no gli staccavo tutti, no scherzo, e ieri abbiamo fatto un bel lavoretto su saliscendi e alla fine la vittoria è andata a me, Xavier Ezequo, però l'importante è andare forte in gara, non in allenamento. La squadra nuova di quest'anno, Xavier Chevrier, è un suo grande pregio è saper tenere sempre allegri tutti e non far pensare ai problemi che ognuno ha, è spensierato, è un po' un coglione, però è un bel pregio. Il mio obiettivo è cercare di migliorare il mio piazzamento dell'anno scorso, che è il terzo posto, e salire sul podio è il mio obiettivo, di sicuro. Il sogno per gli europei, che sognare, nulla ci vieta di sognare, però i sogni sono difficili da raggiungere, però sicuramente un sogno è di vincere l'europeo prima o poi, chissà che magari anche quest'anno. Grazie a tutti.